Eccoci qui cari amici, ciao a tutti per una nuova ricetta. Oggi voglio farvi i suppli, tipica ricetta laziale. Suppli al telefono si chiamano perché fila la mozzarella dentro. Si può fare con qualsiasi tipo di risotto. Io preferisco quello classico al sugo di carne. Oggi a pranzo ho fatto il risotto e ne faccio sempre un po' in più per fare i suppli la sera. Ecco, circa 250 grammi di riso già fotto, condito con il sugo di carne come vi ho già detto. Poi aggiungiamo al condimento del riso 60 grammi di formaggio grattugiato, grana, parmigiano, quello che preferite. Ecco, ce lo metto subito. Due uova belle fresche, mi raccomando. Un bel pizzico di noce moscata. Invece per impanarli, anzi per farcirli, una bella mozzarella o del formaggio che fila, come preferite. La vera ricetta è la mozzarella. E per impanarli, due uovi, un pizzico di sale e un po' di pane grattugiato. Adesso aggiungo le uova al riso e aggiungo la noce moscata. Il sale no perché il riso è già condito. Poi c'è anche il parmigiano, quindi chiaramente si insaporisce, no? In questo modo il riso, i suppli non si aprono perché il riso si amalgama con l'uovo e l'uovo fa da collante, diciamo, no? Semplicemente così. Si mischia tutto per bene. Ecco qua. Se fate più riso, mettete un uovo in più naturalmente regolati, insomma. Ecco qua. Semplicemente così. Ok. Adesso tagliamo la mozzarella a bastoncini, in questo modo. Così. E cominciamo a fare i suppli. Prendo un vassoio per poggiare i suppli. Che non l'ho preso. Ecco qui. Ok. Allora, praticamente, prendiamo una quantità regolata. Io non li faccio molto grandi i suppli perché mi piacciono una misura, insomma, diciamo, media. Mettiamo un bel pezzetto di mozzarella. Li chiudiamo in questo modo. Così. E li passiamo prima nel pangrattato. Così. Poi mettiamo un pizzichino di sale all'uovo. Poco, eh? Perché è tutto saporito. Sbattiamo le uova. Così. Ok. Passiamo il supplì nell'uovo. Poi di nuovo nel pangrattato, ma adesso bisogna proprio tanto. Insomma, farglielo prendere bene bene. Così viene una bella panatura doppia, croccantissima, bella spessa. E poi gli date una forma. Ecco qua. Una nuova rotolatina che non guasta. E un supplì. È pronto. E facciamo un altro. Ecco. Fate l'alloggio per la mozzarella. E chiudete. In questo modo. Di modo che la mozzarella, quando friggiamo, non può riesce, se no è un disastro. Allora, una prima infarinatina con il pangrattato. Poi lo rotoliamo nell'uovo. Così e così. E adesso una bella panata. Come si deve. Lo stringiamo ben bene, di modo che prende parecchio pangrattato. E così via via per tutti gli altri. Eccoli qua. Ecco qua. I supplì sono pronti. Stringeteli bene, di modo che non si aprono in cottura. Io ho già messo l'olio sul fuoco nella padella. Adesso li vado a friggere. Eccoli qua. Belli croccanti, arosoliti. A me, come avete capito, mi piace tutto ben cotto. Allora, adesso li li mettiamo con un piatto con un po' di carta a casa, di modo che assorba l'olio in eccesso. Ecco qua. Scocciolateli bene, perché pieni d'olio non so un granché. Fanno spegnere il fornello. Ecco di qua. Ok. Vedete come sta uscire già la mozzarella. Se vede che là non ci ho mandato abbastanza uovo e il riso. Vabbè, ma va bene anche così, eh. Non c'è di mica niente. Mi raccomando, friggeteli in abbondante olio, perché sennò non vengono proprio bene. Dovete mettere un po' d'olio, insomma, ecco. Ah, come scoppa. Ecco qua. Eh, solissà. I supplì sono pronti, ma però, cioè, eh. Ah, la prova toccafalla, no? Vediamo un po'. Lo taglio con le mani, se dovrebbe, con la forchetta e il cortello, se dovrebbe tagliare con le mani, però... Eccolo qua. E' uscita la mozzarella, ve ne faccio vedere un altro. Vabbè, va, mi scotto. Eccolo qua. Guarda, scotta da paura. Però, l'assaggio pure mo'. Buonissimi. Beh, adesso li sta. Scusate. I supplì sono pronti e noi se la andiamo a mangiare. Ciao a tutti, alla prossima ricetta.